Ciao a tutti ragazze, eccoci qua per un nuovo video, questo qui è il video della mia postazione che avevo già fatto ma era quella vecchia, invece io adesso ho cambiato il mobile e tutto sto registrando con la fotocamera e credo che si veda molto molto meglio quindi iniziamo allora questo qui è il mobile della mia postazione make up che ho preso da Ikea e sarebbe l'Alex con 5 cassetti e con sopra il mobile, mi piace tantissimo qua abbiamo la mia sedia, insomma allora qui ci sono tutti i miei profumi in questa scatola qui con questo cupcake tengo invece tutte le mie sciarpe in lana perché i miei foulard ne metto in un'altra scatola qua abbiamo il mio beauty dello kitty qua abbiamo la mia scatola col fiocchetto con tutti i smalti e qui abbiamo il mio porta accessori con sopra alcuni, questo me l'hanno regalato a Natale beh, dopo vi faccio vedere nel video dei regali di Natale alcune creme, eccetera qui ho i miei pennelli che ho messo in questo porta, dovrebbe essere un porta fiori, non so, di Ikea ma io l'ho usato come porta pennelli poi qua abbiamo il mio specchio qui i miei trucchi quindi questo qua è un porta trucchi di Leroy Marlene con tutti i trucchi qua abbiamo un'altra scatolina dove tengo tutti i miei baby lips e là un'altra scatolina dove tengo tutti gli ombretti mono qua ho alcune mie palette che vi farò vedere in seguito e qua la nuova trousse che mi hanno regalato a Natale poi nei cassetti che sono ben cinque qui ho tutte le mie cover dopo qui ho varie cose due di questi del hip hop chiari da sole, eccetera poi qua ho le mie fasce la mia piastra per chi è interessato alla mia piastra perché nello scorso video mi avete chiesto quale piastra avevo usato ed è questa qui poi in questo cassetto ci sono questa scatola che contiene non mi ricordo neanche che cosa perché ok, elastici per fare i brassoletti ok, non faccio più qua abbiamo il mio mini phone di Hello Kitty poi abbiamo una pochetta di Hello Kitty un sacchettino di Sudued il coso della piastra insomma cose molto utili mi dicono e poi qui sotto ho il reparto cartoleria nastri, matite colori tutte cose che ancora non ho usato ma comunque ok e quindi in teoria è tutto qui e poi qua c'è lo specchio ciao e niente spero che il video vi sia piaciuto vi mando un grosso bacio ciao